Un arresto, 6 misure interdittive, 28 indagati per una presunta truffa ai danni dello Stato dal valore di 6 milioni di euro, sono i numeri dell'operazione della Guardia di Finanza che ha puntato gli occhi su alcuni centri di accoglienza per migranti in Salento. Agli arresti domiciliari Giuseppe Mazzotta di 54 anni di Trepuzzi, sospensione dell'esercizio delle funzioni per un appuntato della Guardia di Finanza di 51 anni di Santa Cesaria Terme. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo di frode in pubbliche forniture, truffa, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, accessi abusivi alle banche dati e rivelazione di segreto d'ufficio. Stando alle indagini, gli ospiti stranieri avrebbero vissuto in condizioni diverse da quelle previste dai contratti di servizio, facendo mancare i necessari requisiti socioassistenziali. In alcuni casi, inoltre, la società coinvolta avrebbe certificato la presenza di numerosi cittadini stranieri che in realtà si sono allontanati dalle strutture da diverso tempo, in modo tale da percepire la quota giornaliera aspettante per la presenza sul territorio nazionale. Sfruttando società cartiere sarebbero state distratte alle rarie somme di denaro pari a circa 3 milioni e mezzo di euro di ricavi non dichiarati, generando un giro di fatture per operazioni inesistenti di circa 2 milioni di euro. Nella mattinata sono stati posti sotto sequestro conti correnti e immobili per un valore di oltre 2 milioni di euro pari al profitto dei reati contestati agli indagati. Uno degli arrestati avrebbe commesso inoltre reati ambientali. Sarebbe stato accertato il deturpamento paesaggistico con annessi lavori abusivi nella fase di riqualificazione interna ed esterna di alcuni fabbricati esistenti in località acquaviva della Marina di Diso da destinare a strutture turistico-ricettive, nonché lo smaltimento illecito del materiale di risulta disgaggiato dalla falesia di Santa Cesaria Terme che è stato disperso nella zona marittima circostante il cantiere.